Per definire una causa civile a Teramo occorrono almeno mille giorni, invece a pescare a Chieti quasi 300. Dobbiamo migliorare assolutamente la produttività del Tribunale di Teramo e per questa ragione oggi ho presentato in prima commissione una risoluzione promossa e voluta dal territorio in maniera particolare dall'Ordine degli Avvocati della Provincia di Teramo insieme al Presidente del Tribunale per sostenere questa vertenza affinché si migliori le condizioni del Tribunale di Teramo. Abbiamo bisogno di più magistrati e più personale amministrativo. La risoluzione ha avuto il riscontro da parte di tutte le forze politiche in Consiglio regionale, è stata approvata all'unanimità per questo voglio ringraziare il Presidente Montepare, il Presidente Sospiro che hanno acconsentito affinché la risoluzione venisse presentata con urgenza anche perché l'11 aprile ci sarà a Teramo il Sottosegretario della Giustizia e tutti i livelli istituzionali dovranno partecipare per chiedere con forza e determinazione al Governo di intervenire e di intervenire presto. Noi siamo molto soddisfatti come Ordine degli Avvocati di Teramo per il fatto che il Consiglio oggi abbia approvato all'unanimità la risoluzione proposta dal Consigliere Pepe che ringrazio per la sensibilità mostrata all'esigenza del territorio della provincia di Teramo. Noi come Ordine degli Avvocati abbiamo segnalato proprio questo, c'è un grave rischio che corre la nostra provincia quindi con grave rischio di ripercussioni negative sul tessuto socio-economico delle famiglie, dei lavoratori, delle imprese se la situazione di sotto organico del nostro Tribunale non verrà risolta. A Teramo pendono i due terzi dell'intero arretrato del distretto della Corte d'Appello dell'Aquila. Teramo è l'unico Tribunale che ha cause ultradecennali, a Teramo il cosiddetto di Sposition Time, cioè il tempo di definizione di un procedimento e il triplo di quello che è in altri tribunali provinciali. Con gli interventi che conseguiranno all'applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, se queste carenze non verranno risolte tra il 2024 e il 2026, la nostra provincia rischia di restare emarginata completamente da un punto di vista economico e sociale dalla realtà più progredita anche dalla nostra provincia. Per questo è urgente un intervento che ponga rimedio alle gravi carenze di organico del personale e dei giudici, nonché della struttura. Diversamente il nostro Tribunale rischia di impoverire definitivamente la nostra provincia e il nostro Tribunale rischia di fare la stessa fine che ha fatto la Camera di Commercio, la Banca d'Italia ed altre istituzioni che una volta erano presenti sul nostro territorio.